Buonasera a tutti ragazzi dal vostro carto al curva nord oggi vedevo parlata la persona una persona che mi ha scritto sotto un documento a me e mi ha offeso la mia famiglia semplicemente perché gli ho detto semplicemente che lui compra gli iscritti che non è che lo dico solo io lo dicono in tanti e poi va in giro cercando donazioni Don English 2 euro per te altri 2 euro 5 euro compresi un bel pacchetto di sigarette ragazzi questo si chiama questo ragazzi si chiama che si vanta che guadagna 1000 euro su youtube si vanta di essere il grande fenomeno esperto che spacca tutto nelle live spacca i telefoni ma sei veramente ridicolo sei veramente ridicolo sei un casosceno vai a chiedere le donazioni perché tu fai perché tu fai aumentare l'iscrizione ai canali ci posso comprare le sigarette eccole le donazioni allora ma tu veramente sei veramente ridicolo a 40 anni poi parli male di tutti commenti sotto i piccoli canali del grande Tony di Leo a diritto privato ma non ve lo vedi ti ha detto pure che ti ha dato l'email per incontrarvi ancora non ce vai c'è 40 anni sei un uomo maturo hai attaccato anche a me perché ho detto sotto sotto a un commento ma è scritto la morte da mamma ma hai morti tua non hai morte da mamma quindi calmo con le parole non sai accettare le sconfitte ti stiamo criticando in massa ho perfino sentito in un video dove tu dicevi interm io non la dirò mai comunque ragazzi da oggi esce uno spot dona anche tu al piripi pipi pipi al 48 4 22 un euro salviamo l'anima benedetta e la sua immagine perché lui è il divino salviamo la sua immagine al piripi pipi pipi quindi da oggi mandate tutti quanti voi un messaggio al 48 42 22 ve lo lascio il link in descrizione donate anche voi piffero eccoli sono tutti per te dai domani ti mando due euro poi altri due poi altri uno ciao ragazzi ci vediamo fra qualche credo ormai un'ora per la nostra live revection come cazzo se dice quella roba lì comunque la live che stiamo tutti insieme non vi dico gli ospiti ma sono ospiti che voi apprezzate molto su questa piattaforma e mi raccomando vi aspetto in tanti che insieme commenteremo la partita vi posso dire solo un esquisito c'è il mio amore cuba la intermania quindi venite tutti mi raccomando gli altri non ve le dico donate donate donate